Cos'è il Circle Time e perché è così importante portarlo in classe? Intanto il Circle Time è un gruppo di discussione finalizzato al dibattito, ma anche alla soluzione di problemi che ad esempio l'insegnante riporta alla classe stessa. E poi ha numerosi obiettivi. Il primo di tutti è quello che favorisce la comunicazione all'interno del gruppo, ma favorisce anche un clima di reciproco rispetto che soddisfa il bisogno individuale di appartenenza al gruppo stesso. Favorisce anche la cooperazione tra i membri del gruppo e aiuta a prevenire e a gestire situazioni di conflittualità.